Per parte nostra le larghe intese sono finite con tutte le conseguenze che questo comporterà sia dal punto di vista della politica economica sia necessariamente dal punto di vista delle riforme istituzionali. Si tratterà di vedere a questo punto quali comportamenti assumerà il Presidente del Consiglio, quali comportamenti assumerà il Presidente della Repubblica. Per parte nostra i gruppi congiunti di Camera e Senato, il Presidente Berlusconi, ci ha dato mandato di rappresentare all'opinione pubblica, cioè a voi, questo passaggio di fase che noi riteniamo assolutamente fondamentale e che noi non riteniamo possa essere, come dire, nascosto dentro un maxiemendamento o dentro una fiducia che di notte o di giorno verrà chiesta e votata in queste ore.